Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Si parla di Giulia Stabile, ma si parla della situazione che non è più stabile, perché i post sono diminuiti in maniera progressiva, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Sono cresciute quindi le chiacchiere di una profonda crisi, ma tra chi? Tra Giulia Stabile e San Giovanni, che vi ricordate stavano insieme, no? Il cantante appunto con il quale fa coppia da un paio d'anni, ma poco incline al go, Giulia preferisce concentrarsi sul lavoro, ed è notizia infatti di poche settimane fa che presto inizierà una bella collaborazione con il ballerino albanese Clé di Cadio, che è uno dei simboli della generazione di Maria De Filippi. Nel dettaglio Giulia lascerà le abituali vesti di ballerina per vestire quelle di insegnante. Giulia ha infatti annunciato che terrà presto una masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all'etual Carla Fracci. Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione. Per accettare questo nuovo lavoro Giulia ha impiegato più tempo del previsto. Circa un mese per dire sì a Clé di, ha confessato, perché non mi sentivo all'altezza. Se il lavoro è in prima fila nella testa di Giulia Stabile, l'amore non è il secondo ma corre sullo stesso piano. E così, dopo le ennesime chiacchiere, la ballerina è voluta intervenire. Lo ha fatto sui social. Ad un commento di un fan che si chiedeva se Giulia Stabile e San Giovanni fossero in crisi o meno ha risposto al diretta interessata a sorpresa. È ancora fidanzata con San Gio? Ha chiesto un utente. E la risposta? Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male. Una replica netta e inaspettata dalla romana, che non è solita rispondere a commenti indesiderati. San Giovanni, invece, non ha mai voluto commentare le voci di presunte crisi con Giulia Stabile. Recentemente il cantante è stato ospite da Cattelan mostrando di essere al lavoro anche sul suo look. Se negli ultimi tempi puntava sempre su Maxi Felpe e Luco Versizze, ora pare aver cambiato registro. Ha infatti stravolto il suo stile, puntando ancora una volta su un look glamour e genderless proprio come agli esordi. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento. Basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.